Se esiste una questione meningite occorre quindi una risposta più celere e precisa dalla sanità. In Val D'Arno e non solo, si è basato su tale concetto l'interpellanza urgente di Lorenzo Martellini, consigliere di Per un'altra San Giovanni, chiedendo innanzitutto la diffusione dei vaccini anche in ogni studio medico specializzato. Se deve essere fatta una vaccinazione di larga scala e anche a più facile popolazione, garantire personale presso l'ufficio vaccinazione e poi attivarsi per far sì che queste vaccinazioni possano avvenire anche in piena sicurezza presso gli studi di pediatria e di medicina generale, di medici di famiglia oltre che nei distretti. E così la richiesta è quella di adoperarsi per la diminuzione dei tempi di attesa creatisi. L'azienda sanitaria dà delle idee e comunque invita la propria popolazione anche nella fascia, per esempio fino a 45 anni, a vaccinarsi almeno per il meningococco C. I bambini in realtà per quel tipo sono sostanzialmente coperti, mancherà il tipo B e deve mettere a disposizione urgentemente personale e anche vaccini stessi presso l'ufficio o comunque, come ho detto prima, garantire questa vaccinazione a vantaggio anche ai cittadini dell'ASL stessa anche presso gli studi dei medici e soprattutto nei distretti sanitari. Per questo appunto, visto che c'è l'invito alla vaccinazione da parte dell'ASL, occorre anche un aumento di personale per la stessa. L'interpellanza è stata fatta propria direttamente anche dal sindaco Villigiardi.